Ciao a tutti, io sono Lennie e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi video pochi a chiediccio, perché volevo condividere con voi una notizia un po' bomba. Ossia a gennaio ho aperto un profilo WhatPod e sto condividendo la mia storia su WhatPod. Quindi prima di tutto vi invito se volete andarla a leggere, è appena iniziata, quindi non ci sono tante parti, tanti capitoli, non è lunghissima perché appunto sto penalizzata, diciamo. E volevo appunto parlare con voi di questa mia esperienza, ma soprattutto poi raccontarvi un po' come essere scrittori su WhatPod, anche se io personalmente non mi ritengo una scrittrice, non lo sono effettivamente, però mi piace scrivere, penso di essere anche abbastanza brava, scusate l'egoismo, però perché no, perché non credere in se stessi, no? Come sono una lettrice, sono anche scrittrice molto tra virgolette, mi piace scrivere, mi piace condividere le mie idee. E vabbè, comunque partiamo subito. Allora io in realtà avevo aperto un profilo WhatPod e un tentenecama per leggere una fanfiction di una mia amica. Poi questa mia amica non ha più continuato a scrivere questa storia, quindi io ero tipo lì, finché non c'è cosa ci devo fare con questo profilo e l'ho cancellato. E poi a me e una mia amica è venuta in mente così, mentre parlavamo, di scrivere un libro. Magari vi racconto in un altro video di tutta la storia, perché è molto divertente. Magari ve lo racconterò in futuro. Quindi scriviamo, iniziamo a scrivere questo libro, però diciamo che rimane sui nostri computer, sulla chiavetta, nascosto, diciamo, tra me e lei. E quindi io ho detto, ho detto, ma perché non pubblicarla, eh? Così almeno iniziamo a farla conoscere, questa storia. E lei è tutta in due stesse, sì, 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 va bellissimo. E quindi ho ripensato a WhatPod, però giustamente avendo cancellato il profilo, ho dovuto avere creato un altro, ho creato questo profilo e ho iniziato a pubblicare, diciamo, i capitoli. Adesso, ovviamente, i capitoli che sono su WhatPod sono leggermente diversi dai capitoli che sono su Word, sul computer. Però, diciamo che la sostanza è quella, non vi preoccupate se la volete leggere. C'è il link in descrizione insieme al mio profilo Instagram se vi volete seguire. Momento di spam finito. Mi sto trovando bene, in realtà, con WhatPod. che vedo che è abbastanza frequentato, diciamo, ecco. Le storie vengono lette abbastanza. Io sono già sulla soglia 100, sto arrivando a 100 listezioni, intendo letture, in realtà. E mi trovo bene, mi trovo bene. Devo dire che è anche facile da utilizzare, molto intuitivo, non ci sono cose complicatissime. Quindi, se volete anche voi condividere la vostra storia, volete tranquillamente usarlo. Se già ce l'avete, non l'avete pubblicato o niente, cosa aspettate? Se vi sentite di scrivere qualcosa, scritto sul WhatPod, come viene? Io sto pubblicando come viene. Poi, ovviamente, una volta finita, ovviamente, ricontrollo le robe, avventuali errori grammaticali che non si sa mai. Tutti possono sbagliare. Ma arriviamo alla questione principale di questo video. Perché scrivete su WhatPod? Prima di tutto perché, come dicevo prima, WhatPod è un sito molto frequentato, quindi le letture salgono in fretta, quindi il vostro racconto, la vostra storia, il vostro libro, qualsiasi cosa sia, viene letto, no? Viene letto anche abbastanza in fretta. Però ricordatevi che, ovviamente, il pubblico è passivo, nel senso che se voi interagite con i vostri lettori, le letture possono salire, insomma, può diventare un po' più merale, perché, ovviamente, si crea questo rapporto tra scrittore e lettore, che, ovviamente, non deve essere forza lettore e scrittore, ma può essere anche tra persone e persone, ovviamente. Diciamo che questo rapporto non è più un rapporto freddo, come si può pensare, ma si può creare un ambiente un po' più caldo, tra virgolette. Poi, ovviamente, vi consiglio, se state scrivendo un libro, di dividere a capitoli, come sto facendo io, in puntate, tra virgolette, perché interessano di più. C'è questa suspense, diciamo, che si viene poi a creare, se da volte si può decreare la suspense, se non ho che vi devo dire, però, ecco, in realtà, la cosa principale è che c'è il lavoro costante da parte dello scrittore nel sempre pubblicare, diciamo, ma c'è anche la parte del lettore costante, diciamo, che, ovviamente, è sempre lì a leggere nuovi capitoli. Ripeto, come dicevo prima, l'interazione è importante, l'interazione con i vostri lettori, è importante, non dimenticatelo, non fate email ai frighisti, agli egoisti, che non rispondete ai messaggi o ai commenti, perché bene sì, si possono anche commentare le storie, come su YouTube, insomma, commentate meglio ancora, si può commentare la singola parte di un capitolo, quindi più volte si può commentare un capitolo. Ovviamente, si incontrano, come su YouTube, in qualsiasi altro social, delle persone che hanno lo stesso interesse per voi, ovviamente, se scrivete una storia horror, ovviamente, le persone a cui piacciono gli horror vengono a leggere la vostra storia, per esempio, quindi si incontrano persone con lo stesso interesse. Poi, ovviamente, su WhatPod esistono dei finanziamenti collettivi, io non so come funzionano, quindi non approfondiamo questo argomento, questo punto, ve lo dico soltanto a titolo informativo, perché non so neanche io come funziona, sinceramente, quindi dovrei informarmi anch'io su questo punto. E arriviamo, infine, alla parte più importante, ovviamente ci sono 20 generi diversi, voi potete scrivere ben 20 generi diversi di storia, ovviamente le principali sono lo young adult e le fanfiction, perché gli scrittori sono più che altro adolescenti e ventenni. Però diciamo che potete scrivere ciò che vi pare, ciò che vi passa per la testa, ovviamente, sempre nel limite del rispetto e di tutte le cose varie. Quindi io vi consiglio caldamente di condividere le vostre idee su questa piattaforma e niente, vi invito nuovamente a, se volete, a lettere la mia storia, non è lunghissima, a seguirmi su Instagram, di lasciare un like anche a questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se non ancora l'avete fatto e di attivare la campanellina così non vi perdete nessun altro video e di commentare se siete su Wattpad e lasciatevi il vostro nick così magari se avete delle storie, qualsiasi tipo di storia, io la leggerò molto volentieri. Bene, magari farò un video sulle mie letture di Wattpad in modo tale da farvi capire anche ciò che mi interessa leggere su Wattpad. E niente, il video finisce qui, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!